Quali sono i principali risultati emersi dal BES 2018? Il rapporto BES 2018 come di consueto effettua un monitoraggio dell'andamento e delle diverse dimensioni del benessere. Quest'anno emergono diverse novità rispetto agli anni precedenti con un 40% degli indicatori che noi consideriamo che sono in miglioramento. Un 30% permane in una situazione di difficoltà, i domini che aumentano sono quelli legati al ciclo economico, quindi al benessere economico, al mercato del lavoro, mentre sono fortemente arretrati le componenti più legate alla soggettività, quindi la soddisfazione per la vita, anche le percezioni per quanto riguarda le aspettative sul futuro. Abbiamo una polarizzazione in qualche modo tra indicatori quantitativi che tendono a migliorare, quindi c'è più lavoro, più reddito e quindi le componenti immateriali del benessere, mentre quelle immateriali, possiamo dire psicologiche, percettive, tendono a peggiorare. Ci sono elementi di aggiornamento di indicatori da segnalare in particolare? Beh, come dicevo, le statistiche che noi produciamo fanno riferimento a 130 indicatori, quindi vanno interpretati un po' complessivamente. Devo dire che i domini tematici maggiormente in miglioramento, in sistematico miglioramento, appunto sono quelle del benessere economico e del lavoro, per cui tutti gli indicatori hanno un miglioramento. Quindi abbiamo proprio una situazione in cui alcuni domini, anche quello dell'innovazione ad esempio, tendono a migliorare complessivamente. E un'altra cosa interessante è che il miglioramento, quando c'è, riguarda tutto il paese, quindi anche le regioni più arretrate, che mantengono un differenziale negativo in termini di livelli, ma in termini di dinamica, di miglioramento, tengono il passo delle regioni più avanzate. Grazie.